Domodossola mette un punto ai lavori di riqualificazione del centro città. A partire da domani sera le vie Marconi e Binda con piazza Cavour saranno restituiti alla città. Ha terminato il cantiere che ha portato alla riqualificazione urbanistica di un importante asso viario. Per la verità in piazza Cavour mancano alcune opere di rifinitura, le panchine per esempio, arredi all'illuminazione pubblica, lavori che il meteo però ha posticipato, ma da palazzo di città, promettono e solo questioni di giorni. La città, soprattutto i commercianti delle attività economiche che si affacciano lungo le vie di cantiere, attendevano da tempo questo momento. Oltre ai lavori di rifacimento della pavimentazione, il progetto ha previsto anche il rifacimento dei sottoservizi e un nuovo arredo urbano. Rispetto al passato sono stati portati diversi cambiamenti, a partire dal numero dei parcheggi, inoltre tutta l'area è dotata di arbusti e di panchine. Anche l'arredo urbano è stato cambiato, portandolo in armonia con le altre zone del centro già riqualificate. Con la riapertura delle strade Marconi e Binda, attenzione alla viabilità. In via Marconi per esempio, a differenza del passato, si potrà transitare solo proveniendo da Corso Ferraris. Chi scende da via Binda dovrà necessariamente svoltare a sinistra verso via Gramsci o via Cadorna. Per un cantiere che si chiude, un altro è già pronto ad aprirsi. Si stima il prossimo mese di giugno. Si tratta del primo segmento di via Binda, compresa Piazza Cortesia. Un investimento per le casse comunali di circa 400 mila euro che va a sommarsi ai quasi 2 milioni di euro spesi per via Binda, Marconi e Piazza Cavour. Il cantiere dovrebbe concludersi entro fine anno, mentre nel 2026 dovrebbe essere in agenda l'asfaltatura di via Cadorna.